A Lisbo presentiamo la novità della Leica Protection Vest, praticamente il gilet che integra il sistema airbag, il sistema protection, quindi quello che ci garantisce, oltre alla galleggiabilità sulla valanga, anche la protezione per quanto riguarda testa e collo dagli urti accidentali e dalle spinte laterali. Sistema che viene integrato nel nostro gilet, molto confortevole, viene indossato comodamente, completamente impermeabile, è dotato poi di alcune parti elastiche che vanno poi compensate con tutta una serie di lacci regolabili, quindi per ottimizzare la vestibilità e adeguarla ad ogni persona che andrà a utilizzare lo zaino. Classica maniglia integrata nello spellaccio, peso con lo zaino, con la bombola, due possibilità di avere le due bombole, una in carbonio e una in acciaio, quindi con la bombola in carbonio siamo a 2,2 kg, con la bombola in acciaio siamo a 2,5 kg. Due tasche anteriori, una integrata anche per l'utilizzo dei nostri dispositivi e poi abbiamo invece sul retro una piccola sacca di 4 litri per il contenuto del materiale dell'autosoccorso, quindi pala e sonda. Grazie